Presidente, adesso possiamo dire che da tutta Italia, genitori, bambini e attraverso i mass media, un po' tutti quanti conoscono ancora di più il circolo di Miglianico. Sì, devo dire che comunque con grande soddisfazione abbiamo portato qui a Miglianico tante famiglie e per questo diciamo che per me è innanzitutto un orgoglio ospitare tutte queste famiglie, con tutti questi ragazzi qui a Miglianico, in Abruzzo, ma in particolar modo insomma abbiamo fatto conoscere veramente la nostra regione, cosa veramente può dare diciamo al territorio. Chi ha visto dal vivo, e immaginiamo anche il Presidente, le gare è rimasto a dir poco entusiasta perché qui è un livello non solo agonistico, sportivo, ma proprio di gioco, di avvicinamento allo sport che è pazzesco. Devo dire che il livello è molto alto, ne parlavo anche con uno dei nostri ragazzi della Golf Academy che comunque diciamo che oggi è abbastanza avanzato e mi diceva che effettivamente anche lui quando aveva praticato questo torneo il giro comunque usciva con 74-76. Diciamo che ieri quello che ha vinto oggi è girato meno uno e oggi ha fatto un risultato veramente eccezionale. Sono veramente contento e soddisfatto. Parliamo di under 12, poco più, anzi bambini, bambini. La rappresentanza di Miglianico in questo campionato? Sono abbastanza soddisfatto, contento diciamo che Giovanni Leone che comunque è entrato di diritto a questo torneo ha fatto il suo giro e ha fatto un buon risultato, sono veramente contento, ma sono altrettanto contento anche per i due ragazzi sia per Davide che per Giorgio che comunque hanno fatto anche loro veramente un bellissimo risultato. Si sono divertiti e questo mi dà ancora più l'entusiasmo e la voglia di investire sulla Golf Academy, su tutto il settore giovanile, quindi un messaggio che do ai maestri che vedendo tutto quello che è accaduto in questi due giorni sia io insieme al Consiglio Direttivo sicuramente investiremo molto di più su questo settore. E adesso per concludere un'estate lunghissima con tanti eventi ogni settimana, più volte a settimana, con l'occhio rivolto all'Alps Tour che diventa una tradizione per il circolo di Miglianico. Sì, diciamo che siamo pronti, incominciamo a pensare a questo torneo che oramai è questo circuito dell'Alps Tour che oramai ci vede già protagonisti da qualche anno. Abbiamo iniziato a provare la preparazione del campo e qui devo ringraziare veramente tutti quanti gli operatori tecnici che comunque si sono adoperati in questa settimana, hanno portato un campo in una maniera veramente eccellente. Quindi da qui incominciamo a preparare l'Alps Tour e siamo pronti.